Appello per salvare la riproduzione dell'aereo di dannunzio del volo su Vienna, realizzato dai maestri del Carnevale d'Abruzzo, esposto al Museo delle Genti, è smontato oggi dopo un mese. Si cerca un luogo dove poterlo ricollocare. A cento anni dal volo su Vienna, del 9 agosto del 1918, i maestri della cartapesta del Carnevale d'Abruzzo hanno infatti realizzato un aereo fedele riproduzione, quasi scala reale del Vilivolo, a bordo del quale Gabriele D'Annunzio fece la nota trasvolata su Vienna, ideata proprio dal poeta pescarese. Nell'occasione vennero lanciati migliaia di manifestini tricolori contenenti una provocatoria esortazione alla resa e a porre fine alla guerra. La riproduzione dell'aereo in cartapesta, plastiche e altri materiali, dopo la permanenza al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, dove si sono svolte iniziative a cura dell'eremo d'Annunziano, ora però deve essere smontato, per questo gli autori che con passione e dedizione lo hanno realizzato, vogliono fare un appello. Abbiamo realizzato questo aereo in diversi materiali, quelli che noi usiamo normalmente anche per la realizzazione dei nostri carri allegorici, legno, legno di balsa, quindi molto leggero, un po' di metallo, ma soprattutto cartapesta e polistirolo. Certo, ci piacerebbe che questo manufatto fosse conservato e fosse visto da tutti gli abruzzesi in qualche museo locale, in un punto in cui poter essere guardato tutto l'anno. Aspettiamo che magari qualcuno illuminato possa prendere in considerazione questa possibilità. Intanto domani si chiude la seconda edizione della rassegna d'Annunziana d'Annunzio e il volo con la proiezione del film Il mare di Gabriele di Francisco José Fernandez, prodotto dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Organizzato dall'eremo d'Annunziano in collaborazione con noi, con il museo e con finanziamenti dalla Fondazione Pescara Abruzzo. In questo ambito, domani si conclude la manifestazione voluta dall'aeremo d'Annunziano. In questo ambito, l'Associazione del Carnevale di Francavilla ci ha fornito questo stupendo aereo che ha avuto molto successo, naturalmente. D'Annunzio lanciò dei volantini di pace su Vienna e c'è poi una particolarità. Un volo di mille chilometri con aerei di questo tipo. Questo in particolare è stato riadattato da Zagato, che poi è il famoso costruttore di macchine, per realizzare un biposto e dare spazio ad Annunzio che non aveva il brevetto di volo e quindi era un passeggero. Buttarono questi volantini e i giornali tedeschi il giorno dopo stigmatizzarono il fatto che Annunzio, anziché buttare bombe, buttò messaggi di pace. E a proposito di cultura, Marzetti dà una chicca. Verrà restituito il prossimo 23 febbraio alla città di Pescara il restaurato Museo Cascella.